Ho scelto DonaCourt perché è un'iniziativa che mi aiuta a farmi conoscere, a fidelizzare clienti nuovi, magari che sono venuti perché hanno anche loro aderito a questa iniziativa e al tempo stesso perché hai un modo per poter dare un aiuto sia alle famiglie che alle scuole stesse, in quanto possono utilizzare questi buoni per fare cose, dalle spese scolastiche alle spese extrascolastiche, al tempo stesso le scuole possono utilizzare i buoni che magari gli vengono donati per poter fare degli acquisti e sviluppare maggiormente le attività degli studenti. Nei bionegozi si possono raccogliere tranquillamente facendo i normali acquisti, se uno acquista per esempio la cosmetica ha un 10% che ritorna in buoni donacourt da poterlo utilizzare come vuole, sulla pelletteria invece ha un 5%, sulla bigetteria 10%, sull'oggettistica un 5% e il posto della profumeria il 5%. I buoni donacourt della mia zona sono accettati da vari istituti, da scuole pubbliche tipo l'istituto comprensivo Martin Luther King di Calcinaia, oltre a altre associazioni o enti privati come possono essere asili nido, scuole di canto, scuole di ballo, dopo scuola. Il funzionamento è semplicissimo, quando il cliente viene per fare un acquisto, viene aperta l'app Donacourt, andiamo semplicemente su cassa, diamo l'importo degli acquisti, facciamo conto 100 euro di pelletteria, gli diamo aggiungi, l'app calcola automaticamente quanto è l'importo e a questo punto niente, check out e gli diamo il cliente o dal numero di cellulare a cui inviamo il Donacourt stesso oppure glielo stampiamo o fa la foto. La cosa di più che mi piace del Donacourt è che i buoni che diamo al cliente al momento degli acquisti, andando su un app, possiamo vedere come vengono utilizzati, dove vengono spesi, se non so, una scuola di canto piuttosto che una gita scolastica, infatti andando sull'app negli ultimi Donacourt emessi e cliccandoci sopra vediamo da chi è stato emesso ma anche vedrà poi spesso. Sono molto entusiasta di questa iniziativa, infatti ho acquistato dei volantini personalizzati dove da un lato c'è la mia pubblicità e dall'altro ci sono le promozioni riservate ai clienti Donacourt.